L'importanza del recupero e del reinserimento dei detenuti nella società è questo l'obiettivo del Ministero? Assolutamente sì, questa è una mostra importante perché dimostra che il carcere non è l'unico modo per scontare la propria pena. Chi ha sbagliato deve pagare, ma non è detto che quello sia il modo migliore per favorire la rieducazione e il reinserimento del detenuto. Ci sono anche altri modi che si fanno nella comunità, con la comunità e che hanno una possibilità di successo più grande. Chiaramente non si adattano a tutti i tipi di reati, però sono decisamente possibili. L'obiettivo del Ministero è sempre più quello di mettere in campo le cosiddette misure alternative alla detenzione carceraria. Assolutamente sì, ma non perché il carcere è sovraffollato, perché questa è una strategia che prescinde dal sovraffollamento carcerario, ma parte proprio dalla convinzione che le ho detto prima, e cioè che scontare la pena in un modo diverso raggiunge meglio l'obiettivo che la Costituzione affida alla pena, che è quello della rieducazione e del reinserimento del detenuto. Presidente, vogliamo spiegare che cosa vedranno i cittadini con questa mostra itinerante? Vedranno la possibilità per gli uomini che sono condannati a una determinata pena perché hanno commesso un reato, la possibilità di rientrare nella società a pieno titolo. E questo grazie all'opera del mondo del volontariato e della gratuità. Ecco perché i centri servizi, Pescara, Chieti, si sono coinvolti in questa operazione. Perché si tratta di promuovere e valorizzare il lavoro del volontariato nelle carceri. Questa mostra ha proprio questo scopo, di far conoscere le carceri per quello che sono. La possibilità di far scontare una pena, ma anche di recuperare, come dice la nostra Costituzione, l'uomo alla società, affinché possa tornare a essere un membro attivo di esse.